Questa mattina con una comunicazione alla giunta regionale abbiamo incaricato il dottor Becchetti, segretario generale della regione, di nominare un comitato tecnico costituito da appartenenti al comune di Pesaro e alla regione Marche per l'individuazione di tutte le modalità operative di realizzazione del nuovo ospedale. Quindi tra 13 giorni sapremo nel dettaglio quali saranno le valutazioni, evidentemente sono valutazioni tecniche che devono essere accordate nel principio di reale cooperazione tra enti e nel soddisfacimento del migliore interesse pubblico, qui non c'è una discrezionalità politica, c'è una discrezionalità tecnica e naturalmente deve soddisfare il canone dell'economicità, ragionevolezza, efficienza dell'azione amministrativa.